Sei stanco? Spossato? Ti senti a pezzi? Incapace di continuare su questa strada? Bene. Il bodybuilding è semplice. Ricevi quanto dai. Se cerchi compromessi, se provi a sottrarti, se vuoi la strada facile, quella più sostenibile, hai perso in partenza. Non ci sono scuse. Non ci sono compromessi. Vai su! Non c'è sostenibilità. Devi dare! Devi arrivare a chiederti costantemente se mi vale davvero la pena. Non c'è problema. No. Non c'è problema. Grazie a tutti